buon pomeriggio a tutti ebbene scusate se faccio ancora un altro video adesso ma mi sembra giusto si parla già dall'anno scorso quasi due anni fa di questo match è vero che siamo ad un anno di distanza però uno scontro generazionale tra the rock e roma range sarebbe straordinario poi in una cornice altrettanto straordinaria bellissima come hollywood los angeles mamma mia mi vengono solo i brividi a parlarne quindi come si vede dall'immagine di copertina di questo video questo match a questo punto si pensa che tra 12 barra 13 mesi si potrà fare nella showcase degli immortali dovremmo aspettare ancora un annetto però come si dice già qualche intervista qualche piccolissimo indizio già incomincia ad esserci comunque the rock contro roma range se sarà fatto il match sarà straordinario ne sono pienamente convinto ciao a tutti